Luigi Arditi è stato un violinista, compositore e direttore d'orchestra italiano, attivo internazionalmente, con lunghi soggiorni specie negli Stati Uniti e in Inghilterra. Biografia. Luigi Arditi nacque a Crescentino. Studiò musica al Conservatorio di Milano, avendo come insegnanti Bernardo Ferrara e Nicola Vaccai. Nel 1842 iniziò la sua carriera musicale come violinista, e l'anno successivo fece il suo debutto come direttore d'orchestra a Vercelli, dove fu nominato membro onorario dell'Accademia Filarmonica. Diresse opere liriche in giro per l'Italia prima di imbarcarsi, nel 1846, per l'Havana, insieme al grande contrabassista Giovanni Bottesini. Sino al 1856 condusse varie orchestre negli Stati Uniti e in Canada, dirigendo opere a New York, Philadelphia, Boston e in altre città, ed accompagnando tutti i divi del canto lirico che si presentavano oltre Ocano, da Marietta Albania a Henriette e Sontag, alla coppia Mario e Giulia Grisi. Quindi, dopo una visita a Costantinopoli, decise di stabilirsi a Londra, pur tornando diverse volte in America con la Royal Italian Opera Company. A Londra diresse l'Orchestra dell'Hermagestis Teatre dal 1858 al 1869, e, negli anni 1869-70, del Covent Garden Teatre. A lui si deve la prima rappresentazione completa di un'opera di Wagner in terra inglese, l'olandese Volante, andata in scena in una versione in italiano al Drurilane a luglio del 1870. Andò a dirigere anche in Germania e in altre grandi città europee, come San Pietroborgo, Vienna e Madrid. A partire dal 1885, ancora in Inghilterra, fu alla guida di vari prestigiosi teatri, nonché di promenade e concertes nei parchi di divertimento di Londra. Durante la sua lunga carriera cantarono sotto la sua direzione molte fra le più grandi interpreti della seconda metà dell'Ottocento, fra cui in particolare Marietta Alboni, Marietta Piccolomini, Ethel Cagerstere e Adelina Patti. Moria Ove, presso Brigaton, in Inghilterra. Opere La prima composizione di Arditi, un ouverture, risale al 1840. Le sue opere più conosciute sono I Briganti. Il Corsaro e la Spia. Quest'ultima, composta durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, fu la prima opera lirica di un compositore italiano, e una delle prime in assoluto, ad essere basata su un testo americano, il romanzo Tespai di James Fanny Moore e Culper. Compose inoltre una commemoratio node, numerose canzoni e valser cantati, i più popolari dei quali sono il bacio, le tortorelle, se saranno rose e parla. Il suo inno turco per il sultano Abdul Meyidi, composto su un testo in ottomano, fu eseguito successivamente al Crystal Palace di Londra, durante la visita ufficiale del sultano Abdul Azzi nel luglio 1867, da un coro inglese di 1600 elementi. La prima registrazione mondiale dell'imno turco, con l'orchestra sinfonica e coro di Praga diretta dallo storico della musica turco Emre Arac, fu incisa nel 2005 dall'etichetta Brilliant Classics. Pubblicazioni. Luigi Arditi e Filippo Manetta. La spia. The Spy, a grand'opera in 3 acts, New York, Darce, 1856. Luigi Arditi, Mi Reminisce in Cess, seconda edizione, Londra, Schaffington, 1896 note. Altri progetti. Wikisource contiene una pagina dedicata a Luigi Arditi. Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luigi Arditi collegamenti esterni. Spartiti liberi di Luigi Arditi, in International Music Score e Library Project, Progetto Petrucci LLC.